Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di ACRRC che ricordiamo voglia dire attività creata rigorosamente restando a casa. Con questo sabato sarebbe cominciata la terza e ultima fase dell'anno il cui tema è l'incontro ed è ambientata nel campo sportivo, un luogo di fatica e di impegno ma anche di crescita e incontro. Infatti molti dei miei amici li ho conosciuti proprio facendo l'attività atletica. Siccome è il primo sabato che passiamo in questo posto vediamo intanto di ambientarci, non so se lo sapete ma la prima cosa che si fa quando si arriva al campo sportivo è fare riscaldamento ed è per questo che noi animatori abbiamo pensato di proporvi un'attività di riscaldamento. Cosa vi serve? Vi servirà un dado tipo questo in cui potete scrivere degli esercizi da fare e così non vi servirà neanche il personal trainer che vi suggerisca che esercizi fare, basterà creare il dado e fare quello che viene fuori scritto. Potete creare anche un'altra variante, ad esempio con i numeri per il numero di ripetizioni da eseguire. Buon riscaldamento e buon weekend. Ciao! Ciao ragazzi! Stavo quasi per dimenticarvi una cosa importantissima, cioè in realtà mi sono dimenticato perché sto girando il video in un altro momento. Comunque se non sapete come si fa un cubo? Ora il mio amico Nicola ve lo mostra un bellissimo tutorial. Ciao! Ciao ragazzi! Per fare questo dado abbiamo bisogno di un foglio di carta A4, una matita, un righello, un paio di forbici e una colla. Cominciamo! Ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.